Una limitazione corretta può fare a meno della carne? Deve fare a meno della carne. La carne non serve, è un'acquisizione tardiva nell'evoluzione dei primati. Noi siamo primati, siamo come le scimmie dal punto di vista metabolico, che infatti non sono carnivore. Quindi penso che la carne non serva a nessuno, né i bambini né le persone anziane. Si deve eliminare per mille ragioni, perché è un costo enorme per l'ambiente, un chilo di carne dietro le spalle a 15.000 litri d'acqua. E poi perché è una tortura ingiustificata agli animali. E le persone che escludono invece il latte e le uova dalla loro alimentazione fanno bene o male? Non fanno male, è un pochino più complesso, perché mangiare solo vegano c'è più difficoltà. Bisogna trovare, andare in certi negozi e trovare cose che non abbiano neanche una piccola quantità di latte o di burro, eccetera. Però male non fa. Lei cosa mangia? Vegetariano, moltissimo, poi mangio qualche uova, un po' di formaggio, molti spaghetti a pomodoro, pizze, dolci, cioccolato. Io mangio benissimo.